Grazie mille. Vediamo se riesco ad aggiungere un angolo diverso, essendo esattamente sul lato della produzione. Parto dalla fine. Credo che FinTech rappresenterà un boost per la distribuzione. Questo è evidente dal nostro punto di vista. Credo che il sistema finanziario, in particolare l'asset management, non è particolarmente reattivo a tutte quelle che sono le novità. Credo che ancora oggi vediamo che molta gente fa fatica a fare acquisti online, fa fatica a prenotare la visita da un dottore online. L'asset management, per definizione, non è ancora in grado di integrare questo, direi, in maniera molto, molto forte. Quando guardiamo poi nel nostro settore, come abbiamo appena sentito, spesso FinTech viene confuso con RoboAdvisor. E se RoboAdvisor viene considerato come un sostituto dei consulenti finanziari, direi che questa non è la nostra opinione. È vero che abbiamo acquistato un RoboAdvisor, ma è vero che la nostra visione è praticamente molto diversa. Vi faccio un esempio. Perché stavo parlando con mia figlia di otto anni. Molti di voi hanno dei figli. E vedevo mia figlia utilizzare l'iPad, anzi mia figlia utilizza l'iPad per fare i compiti. Cioè, lei non porta più i libri da casa a scuola. Lei lascia i libri a scuola, usa l'iPad, ha tutti i contenuti per fare storia, matematica, inglese, geografia, quello che è. E pensavo a me stesso quando avevo questo zaino enorme e dimenticavo libri. Ma mi ricordo la pila di libri. E ho chiesto a mia figlia di otto anni, chiedendogli, senti, ma cosa dici se magari l'anno prossimo invece che andare a scuola interagisci col tuo professore? Con i tuoi maestri direttamente. Stai a casa, è molto più veloce, molto efficiente. E mia figlia di otto anni, in maniera immediata, mi ha detto no way. Perché io a scuola mi diverto. Perché ascolto i miei compagni, perché ascolto i maestri, perché scherzo. E qui abbiamo proprio la visione piena di che cosa vuol dire FinTech, anche nelle generazioni nuove. Cioè l'idea di dire è sostanzialmente uno strumento con un contenuto che però deve essere poi elaborato. E se questo è il modo in cui FinTech viene utilizzato, sia esso un sistema di rendicontazione o un sistema di asset allocation, voi capite molto bene che rappresenta nient'altro che un acceleratore nella relazione con la controparte. Credo che in effetti, quando guardiamo il mercato europeo, in particolare quello italiano, ci rendiamo conto come siamo ancora in questa fase di muoverci da un posizionamento difensivo, RoboAdvisor, come funziona, a un posizionamento reattivo. Come integriamo questo? Il sistema bancario italiano, che conosciamo molto bene, è chiaramente bancocentrico. Cioè è naturale che ci siano delle reti di distribuzioni. E credo che questo vantaggio di utilizzare FinTech, RoboAdvisor o qualunque esso sia, sia molto evidente in ogni rete, più o meno integrato. Non sono ancora convinto che è arrivato giù al livello di promotore cliente finale. E questo rappresenta dal nostro punto di vista la prossima sfida, anche se grandi passi sono stati fatti. Abbiamo visto una serie di statistiche prima, vedendo come cresce da 300 billion oggi a 2.2 trillion. È vero che quattro anni fa non c'era questo segmento, è vero che è cresciuto, però la realtà abbiamo visto anche prima come oggi, anche nei mercati più sviluppati, il cliente medio ha circa 100 mila dollari investiti, di cui il 20%. E questo non cambierà moltissimo, perché chiaramente avrà una necessità di integrare questo con una serie di informazioni molto più complesse. Credo quindi, per rimanere nei cinque minuti molto veloce, che con la FinTech, sostanzialmente la FinTech rappresenterà un acceleratore di efficienza, che cambierà il modo in cui la distribuzione dovrà parlare con i propri clienti, ma non cambierà le basi sulla quale la propria cliente la verrà gestita. E se questo funziona, aumenteranno i margini delle stesse entità.